Grazie, bravo. Allora, io, per quanto riguarda gli interventi, scudo dato il documento del financio, l'assessore ha rappresentato un po' la volontà di domenica, quindi eviterei solo, diciamo, se non si dite questo obiettivo, e passerei sulla propria intervento di un altro Consiglio Russo, con altri uniti materiali dell'articolo. Consiglio Russo, passiamoci a passare. Grazie per te. Allora, io, la presenza, io, come tutti gli amministratori del Consenso, dei messaggi che dà troppo bene? No, potremmo che sono comprati in due coppie, di voi una, la presenza o la avete? Sì. E poi, sempre, se dì, se dì, se dì, se dì, se dì, se dì, io sono posto massicurito, se dì voi la verità, diciamo, in questa, guardate, io ci vedo, di maniera, ma quanto riguarda, in quel Stato si è arrivato da Pesino. E' immaginabile che si tengono fischi di giacolo da parte del pubblico. Insomma, ma è diventato una grandina questo Stato. Andiamo! Così, scusi io, non da Pesino, perché cercavo di capire. Il capismo è bene, vuole sapere probabilmente quando deve capire da Pesino. Allora, dato che ci sono dei tempi, per quanto risposto, per quanto riuscito, in cui bisogna presentare generale un tessuto bottico, successivamente, la loro generale e la mano ha presentato una generale, una generale, una generale, una generale, una generale e una generale, una generale, una generale, una generale, una generale, una generale e una generale. Allora, visto che in questi uniti è volutato, diciamo, contro il dato, di un Stato. E' contento che c'è da Pesino per capire qual è il punto Visto i pezzi minimi, qui io la invito a posizionare nessun effetto, scusami di tutta la situazione, ma questa è la situazione. Prego. Grazie Presidente. Quando se ne è d'accordo, io manterei a chiusurare in effetti sicuramente, perché il premento è comodo. Allora, gli emendamenti da miei proposti sono emendamenti che vanno a proposito dell'ambulzio di internet, perché il primo, il primo intervento va ad istituire o a raccontare quello che è ben arrivato all'intervento, quindi i tironi informativi e di riferimento. Vai a dire un'opportunità, inescrivibile dal punto di vista qualitativo della formazione professionale che non l'avremmo, a formulare un tironico formativo che vanno alle soluzioni comune, in modo da creare due opportunità importanti. La prima è formare, insomma, il laureato in maniera che va in parte di quella dei principi pubblici, quindi di far cambiare la trasparenza e la trasparenza dell'azionale ministerialino. La seconda, quella di infatti, insomma, maturare un atto di esperienza tra le soluzioni pubbliche. E non è da poco che considera i concorsi pubblici che vanno solo esclusivamente queste possibilità. Il secondo intervento va ad istituire una proposta già formata anche da altre forze politiche, però non solo in maniera, insomma, così di notizia, invece oggi possiamo chiedere la realità. Cioè, ovvero, intendo di parlare una rete guai-pane di modo sforzo, e vado a dare a dire che i cittadini, insomma, di Casoria possono collegarsi all'intervento di maniera del suo gratubità, se senza nessun conto, in una zona specifica dell'azionale che avremo anche individuale, praticamente successiva, invece, una carità alla persona, dove c'è, la maggior parte delle persone che frequentano. La terza riguarda il pochi contributo economico alle giovani coppie, cioè a coloro, praticamente, che si sposano e ad hanno nessun conto. La terza, per ultima unità guai-pana, va ad effettuare un intervento di cacera della programmazione, che è una delle traduzioni pubbliche, ovvero, la non versione tognare, la divina, la terza riguarda, questo deve dimostrare, caro Paustano, che quando le cose si chiedono in maniera, insomma, equa, e la maggior parte, credo che mostrerà sensibilità e disponibilità della presidenza. Quindi, l'intervento di l'azionale di una elezione nazionale si fa chiedere la terza riguarda, dove c'è un ufficio pubblico che è un ufficio dei deputti, e quindi, andrà a fare una malattia da questo punto. Questo ne viene da me, Presidente del Ponte, io le porto e le alleno alla presidenza. Accusiamo gli regamenti che noi vogliono andare a fare una miscara alle azioni, a quanto, e quindi, andrà a fare una miscara. Grazie.